le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 6 giugno ariete questa luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale siete affascinanti e sensualissimi in amore sarete protagonisti assoluti toro una giornata in cui in primo piano ci saranno i rapporti con gli altri con i familiari gli amici e il partner la luna in sagittario favorisce un chiarimento gemelli marte ancora in posizione difficile rischia di aumentare la pressione a cui siete sottoposti oggi sarete molto permalosi pronti a dare battaglia in qualsiasi momento cancro la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata l'amore è sempre intenso leone il sole vi fornisce quella scarica vitale di cui avete assoluto bisogno ritroverete entusiasmo soprattutto in amore che in questo periodo è stato il tallone ed achille vergine la luna è particolarmente fastidiosa per la forma fisica cercate di non fare sforzi eccessivi i capricci del tempo potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo bilancia programmate una serata all'insegna dell'amore organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate avete il sostegno di venere siete romantici scorpione è iniziato un periodo pieno di sorprese di colpi di scena l'amore inizia a dare segnali di cambiamento sentite crescere la passione un sentimento sta per esplodere sagittario e l'amore il grande assente di questo periodo venere negativa mette in crisi anche le coppie consolidate e marte in pesci non fa altro che accrescere il malcontento capricorno la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante anzi rischia di farvi piombare in uno stato di apatia marte si trova in una posizione molto bella per il lavoro acquario marte in pesci vi regala sempre grande energia ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari o gli amici la vostra grinta però saprà superare i problemi pesci la luna difficile rende la giornata piuttosto stressante la situazione sentimentale non è ancora del tutto chiara ci sono tante cose che non vi convincono e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus